Al via la campagna elettorale per il rinnovo delle cariche all'interno della Confcommercio di Chieti. Questa mattina a Francavilla è stata presentata la lista di Marisa Tiberio che si propone una ristrutturazione completa dell'ente che superi e ha spiegato i personalismi che hanno caratterizzato l'attuale gestione della Confcommercio. Oggi siamo qui per presentare questa lista che è composta di 20 persone che rappresentano sia il territorio a livello geografico sia tutti i settori merceologici. Nella mia lista il 50% è composto da donne. Intendiamo mantenere nel caso dovessimo risultare vincitori il nostro programma sul nostro sito internet. Occorre che ci siano delle strategie univoche condivise con la base associativa. Insomma intendete riorganizzare un po' tutta la Confcommercio? Intendiamo riorganizzare, ristrutturare e riformulare una nuova Confcommercio che metta il piccolo commercio al centro di ogni progetto. In lista per Francavilla anche Antonio Del Ciotto. Anche se in giro è stato dichiarato che io non sono in lista e non mi sono candidato ma ben sì sono presente e sono contento di esserlo e di ribadire nuovamente il mio impegno per la Confcommercio e per Francavilla.